Da alcuni anni a questa parte, alle scuole De Amici, se sono scuole materne a Bologna, si sono verificati episodi molto incresciosi, cioè alcuni bambini si sono punti con siringhe lanciate nel parco da tossicodipendenti. Questo è un fatto molto grave che ha suscitato il nostro interesse e abbiamo chiesto un impegno concreto all'amministrazione comunale, al commissario Cancellieri, affinché a settembre questo problema venga risolto. Viene là qui perché di nostra la zona non è presidiata e quindi è così. Diventa un divacco. Un divacco qui dietro. E' anche facile scavare uno dei bambini che si è conficcato là. La siringa c'era stata trovata anche da un'unità che è approvata in Dammettico. Per questo oggi eravamo in un sopralluogo congiunto, perché noi abbiamo sollevato il problema. Abbiamo chiesto che si facciano subito degli interventi, in attesa di interventi più strutturali, che almeno l'area venisse recintata meglio o comunque messa in situazione di sicurezza, anche se possibile con un guardiano all'interno notturno. Questo perché i bambini hanno diritto di poter giocare all'aperto, alle scuole materna, senza avere il problema appunto di pungersi con una siringa o comunque di mettere a repentaglio la loro incolumità. Noi siamo il partito dei cittadini, siamo il partito che vuole fino in fondo interpretare i bisogni concreti della nostra gente e per questo stiamo monitorando il territorio perché i problemi che la gente vive quotidianamente siano messi al centro dell'azione politica locale. Grazie a tutti.